benvenuti su questo nuovo video vediamo di parlare un pochettino di prima sezione moltissime volte si apre in questo modo e la pressione del compagno viene a dare fastidio molto spesso si apre in maniera orizzontale quindi non ce la faccio oppure avere quest'idea devo evitare il più possibile di dare tutti questi punti d'appoggio che sono molto didattici quindi ho il tempo di ascoltare di difendere quindi devo aprire in questo modo facile con un compagno o con una fisicità come quella del signo Nicocrassia facciamo un attimo con una persona più impegnativa andiamo ok spalle basse questo discorso appena fatto va bene finché il compagno mi fa fare gomito basso ripeto se qui lui da un po di fastidio e io stacco il gomito non riesco è molto forte quindi devo essere certo di aprire comunque do il tempo di avere l'informazione apro così e lui fa forza io non reggerò mai lì ogni volta che apro in questo modo lui rompe no forza sto rompendo la linea tra polso e gomito mi taglierà sempre sta accennando chiamso quindi già sarebbe fondamentale tagliare verticale per controllare il gomito e andare ma questo è ancora facile ok pressione 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 ok questa è l'idea questa è l'idea tutto controllato gomito che questo è pericolosissimo e colpo di panno grazie grazie